Una scelta difficile e ben ponderata con il comune di Veggiano costretto in accordo con la locale società di calcio a chiudere il campo di calcio a 5 in erba sintetica. Le porte erano state cambiate solo tre anni fa e sono già state danneggiate, così come le reti che sono state invece sostituite per quattro volte nell'ultimo anno. Danni fatti alla comunità perché quel campo era affidato alla società che lo utilizzava per gli allenamenti delle squadre, ma lasciato ad accesso libero per trovarsi a giocare in compagnia. Con rammarico, scrive l'amministrazione sui social, il campo resterà chiuso almeno fino alla messa in sicurezza dello stesso. Per la riapertura si invitano tutti coloro che lo utilizzeranno a tenere un comportamento più rispettoso e un linguaggio più consono visto che sarà frequentato da bambini di tutte le età.